Ovviamente siamo in un periodo di pandemia dove può sembrare quasi assurdo presentare una legge di questo tipo, invece ho ritenuto importante in cominciare a pensare anche alla ripresa, al futuro. Il turismo sarà sicuramente una delle grandi opportunità che come Regione Marche dovremmo promuovere e valorizzare. Siccome noi siamo a terra di privati di motori, avevo già fatto una legge nel corso del 2017 che aveva questo obiettivo, questa nuova legge ha l'obiettivo di individuare sia le figure come gli accompagnatori mototuristici, che saranno quelle figure che sapranno raccontare il nostro territorio e accompagnare le tante persone che decidono di fare un viaggio, di farle in moto, ma quindi nelle Marche avranno prima Regione Italia delle figure, degli accompagnatori in grado di poter raccontare tutte quelle che sono le bellezze che noi abbiamo. Dall'altro punto di vista invece riuscire all'interno del piano di promozione turistica individuare tutta una serie di itinerari che appunto questi mototuristi, questi appassionati di moto, potranno fare nel nostro territorio regionale. Noi siamo una Regione di piloti, una Regione di motori, importantissimi ricordo il ruolo di Tavuglia e di Pesero come ad esempio sia per quelli che sono i piloti attualmente a livello internazionale ma anche e soprattutto per quello che vale il Museo Benelli che abbiamo nella città di Pesero e il futuro Museo Morbidelli che sarà uno dei musei più importanti a livello internazionale.